Ciao amici di Feedback Bianconero, benvenuti per questa nuova pillola. Oggi parliamo di attualità, affrontiamo il nuovo regolamento Covid previsto, direi finalmente, dalla Lega Calcio di Serie A. È incredibile come la stagione agonistica si è iniziata comunque in una situazione emergenziale, quindi non imprevedibile né imprevista, ma facilmente prevedibile anche con ulteriori peggioramenti già paventati dai più, eppure vi era questa lacuna normativa, tant'è che si rimandava semplicemente a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute che prevedeva il singolo isolamento del caso Covid, del singolo caso, quindi la quarantena, eccetera. Nel caso di focolai, quindi di casi di massa di Covid, non vi era un regolamento, cosa che invece vi è e già vi era in altri campionati europei che comunque hanno sistemato, tra virgolette, la situazione approntando un regolamento ad hoc, giusto o sbagliato che sia, ognuna ha la sua idea. Cosa ha fatto la Serie A? Si è uniformata o conformata alle direttive UEFA, al protocollo UEFA, che prevede la possibilità di scendere in campo, quindi di sputare la gara, purché vi siano 12 giocatori in movimento o più il portiere, quindi complessivamente 13. Chi sono questi giocatori? Sono i giocatori ai quali si è stato già assegnato un numero di maglia. Sappiamo che la lista Serie A prevede 25 giocatori con le sue limitazioni, i 4 più 4 tra i tesserati in Italia, cresciuti nel vivaio, formati in Italia, eccetera, e poi la lista Under 21. Under 21 chi sono? Sono coloro che al 31 dicembre dell'anno antecedente abbiano compiuto i 21 anni di età, quindi si può attingere anche dal vivaio, diciamo così. In caso di possibilità per la squadra di scendere in campo, quest'ultima ha un solo giocatori, una possibilità di chiedere il rinvio della partita. Qualora si dovessero disputare le semifinali e le finali di Coppa Italia, avevano ulteriori possibilità di rinvio. Oppure, in caso di Jolly tra i giochetti è già giocato, o in possibilità appunto di scendere in campo e la squadra magari non vuole chiedere rinvio, vi è la sconfitta comunque a tavolino. Capirete come già la stagione scorsa, a mio giudizio, sia stata comunque alterata da quella che è stata la situazione emergenziale venutasi a creare, quest'anno, a mio giudizio, stiamo assistendo al campionato più strano, più anomalo, più alterato e più casuale della storia del calcio, almeno per quanto riguarda quelli ai quali ho potuto assistere. È una situazione molto difficile, non è facile da regolamentare, la critica che mi sento di fare, scusatemi, è che è incredibile come iniziare una stagione in emergenza e non prevedere un regolamento ad hoc già in partenza. Questo è già falso una competizione, prevedere delle regole in corsa. È chiaro come anche i cinque cambi possano aver in parte alterato la competizione, è chiaro come avere una rosa profonda sia fondamentale. Per rosa profonda intendo non solo numericamente, perché sappiamo che vi sono comunque dei limiti, quindi anche avere dei giovani pronti è importante, ma avere nei 25, quindi nei tre portieri più 22 di movimento, tutti i giocatori pronti all'uso, idonei allo scopo, nel senso comunque tali da fornire delle garanzie quantomeno sufficienti. Questo cosa vuol dire, a mio modesto avviso, anche andare a fare determinate valutazioni in sede di mercato, perché se io devo cedere senza fare nomi, un giocatore in prestito per crearmi magari un ingaggio di sparmiare pochi milioni di euro, che nel calcio, dico pochi perché il calcio ha una valenza molto relativa, a differenza che per i comuni mortali, chiaramente, forse potrebbe essere più utile tenere in rosa un determinato giocatore, perché in situazioni di emergenza, appunto, lo stesso potrebbe giocare e essere utile alla causa. È chiaro che se invece si fa cedere un giocatore con una cifra importante, almeno la squadra può avere un tornaconto, la società dal punto di vista economico, e perché no, o andare a ripianare un po' il bilancio, o anche acquistare altri giocatori più forti, secondo il giudizio, appunto, del direttore sportivo. Quindi bisogna fare queste valutazioni, bisogna avere una rosa assolutamente con 25 giocatori coinvolti e idoni allo scopo, perché potranno fare la differenza. Io, da sportivo, mi sento di dire che la competizione è comunque alterata. Siamo in mano al caso, è inutile nasconderci. I giocatori, certo, ai giocatori si potrebbe chiedere una maggiore attenzione, potreste dirmi, vivrebbero in una gabbia dorata, passatemi il termine, nel caso in cui magari fossero più attenti, per chiaro anche loro e chi gli sta vicino hanno dei rapporti sociali. Certo, io chiederei una maggiore attenzione agli stessi, proprio per non compromettere i risultati sportivi. Fermo restando che stiamo vivendo una situazione assurda, e mi permetto di dire e di ribadire, dal punto di vista sportivo dovremo essere molto lucidi e andare a ponderare bene le nostre analisi, perché comunque è un campionato alterato, c'è poco da fare. Può valere per noi nel caso in cui affrontassimo una squadra meno umata, può valere per gli avversari, insomma, in caso contrario. Quindi il caso inciderà. Non credo che chiaramente vincerà il campionato una squadra di livello medio-basso, ma sempre una delle favorite, però c'è questo fattore casualità, c'è questa sorte, la dea bendata, che può anche in alcuni casi aiutare o meno una squadra. L'unica critica che mi sento di condividere è quella di non aver previsto a monte un regolamento, anche per trovare, per carità, una situazione sportivamente il più corretta possibile. È chiaro che vi sono gli europei, il campionato ha un calendario molto stretto, vi sono pochi spazi per infilare determinati recuperi, eccetera. Capisco tutte le esigenze, però forse non dover modificare le regole in corso è un qualcosa già di sbagliato a prescindere per me, ma, insomma, poter prevedere e approntare un regolamento ad hoc prima, forse si sarebbe trovata una soluzione migliore. Io condivido con voi questo pensiero, sono curioso davvero di sapere cosa ne pensate, visto che ci seguite sempre in tanti, e vi abbraccio forte e spero il mio curio e quello che davvero questi casi di Covid siano limitati al minimo, perché da sportivo, sto parlando in generale, quindi non da tifoso, mi dispiace reputare una competizione alterata perché, a mio modesto avviso, una cosa è il Covid, l'assenza da Covid, un'altra è quella da squalifica o anche infortunio traumatico muscolare, che fa parte, diciamo, anche dell'ordine normale delle cose per quanto riguarda lo sport. Il Covid è una situazione eccezionale che si va ad aggiungere agli infortuni, alle squalifiche, eccetera. Quindi con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima pillola. Ciao!